già fatto dicevo lo sapevo che lo dicevi no no si si metti su tu lo provo io? no alto è non so se ti ho riprendito se mi vuoi provarlo io te lo do io te lo do io te lo do io te lo do ancora un pelo di caldo no 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 vuoi ancora un pelo? tu dovresti girare così io non va fuori tu vai giusto che si imparai ma fa di tempo ora no 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 mi rilascio un po' con il mio dai prima poi poi mettete un po' la mano l'importante è che viene ti vedete va bravo 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 Nino bravo Nino che dici socio? ma può andare come preferisce lui no dipende da quanto è nervoso non è difficile no non è difficile pensavo di più no 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 no